Può dormire sonni tranquilli il signor Pasquale, 58enne barese, l'edicola d'angolo tra via Embriani e via Deggiosa, da lui rilevata ben 28 anni fa, non chiuderà. Almeno fino al 2033, anno in cui cesserà di avere effetto la proroga per la concessione del suo utilizzo. E l'assessore comunale al patrimonio, Vito Lacoppola, confermalo al lavoro da questa mattina per scongiurare l'ipotesi della chiusura appaventata nelle ultime ore. Abbiamo guardato le carte, conferma infatti l'assessore, e tra la richiesta di proroga avanzata al comune risulta anche la sua. Pericolo scampato dunque per il signor Pasquale, che già prima della notizia si dichiarava tranquillo, ma ora ha un motivo in più per gioire. Immediata nell'escorsore, la mobilitazione del sindacato degli edicolanti, il Sinagi, che ha allertato istituzioni e stampa sul problema. Nella nota il sindacato parlava di un provvedimento di rimozione immotivato e incomprensibile, soprattutto alla luce del momento pandemico e del fatto che l'edicola in questione è su quell'angolo da oltre 50 anni. Diversa invece la questione del suo posizionamento, su cui gli uffici e palazzo di città stanno ancora chiarendo i dettagli.